Ciao carissimi e benvenuti alla nuova puntata di Cinema degli Eccessi Cos'è sta merda? E' roba nuova la città Strong man is strong Signori, a voi Shiva Produzioni Un canale ad altissima professionalità Secondo me uno dei canali di cinema più sottovalutati in assoluto Non sto scherzando Bravissimo Shiva Produzioni Poi abbiamo Shiva Produzioni Allora, grandi ragazzi Mi è piaciuto proprio perché siete riusciti a metterci del personale E' una cosa che veramente mi è piaciuta Bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto Grandi ragazzi Grazie a tutti